Una mente virile e un cuore tenero Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Matteo 10.16 Un filosofo francese ha detto Nessun uomo è forte se non porta nel proprio carattere antitesi fortemente marcate. L'uomo forte possiede in una mescolanza vitale opposti fortemente marcati. Non è comune che gli uomini raggiungano questo equilibrio di opposti. Gli idealisti di solito non sono realisti e i realisti di solito non idealisti. I militanti generalmente non sono passivi né i passivi sono militanti. Raramente gli umili sono capaci di autoaffermazione o i capaci di autoaffermazione sono umili. Ma la vita al suo meglio è una sintesi costruttiva di opposti in una feconda armonia. Il filosofo Hegel ha affermato che la verità non si trova né nella tesi né nell'antitesi, ma nella sintesi che ne deriva e che le concilia entrambe. Gesù ha riconosciuto la necessità di una fusione di opposti. Egli sapeva che i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare un mondo difficile e ostile, dove si sarebbero scontrati con la resistenza dei rappresentanti politici e con l'intransigenza dei custodi dell'ordine antico. Sapeva che avrebbero incontrato uomini freddi e arroganti, con i cuori induriti dal lungo inverno del tradizionalismo. E disse loro Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi e diede loro una formula per l'azione. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. È veramente difficile immaginare una singola persona che abbia simultaneamente le caratteristiche del serpente e della colomba. Ma è proprio questo che Gesù si aspetta. Noi dobbiamo unire insieme la prudenza del serpente e la dolcezza della colomba. Una mente robusta e un cuore tenero. Consideriamo per prima cosa la necessità di una mente robusta, caratterizzata da un pensiero incisivo, una valutazione realistica e un giudizio deciso. La mente robusta è acuta e penetrante, non si lascia soffocare dalla crosta delle leggende e dei miti e distingue il vero dal falso. L'individuo dalla mente robusta è astuto e capace di discernimento. Ha una qualità forte, austera che genera fermezza di propositi e saldezza di impegno. Chi può dubitare che questa robustezza di mente è una delle maggiori necessità dell'uomo? Raramente si trovano uomini che si impegnino volentieri in pensieri ardui, robusti, la ricerca di risposte facili e di soluzioni già pronte è quasi universale. Niente è più penoso per alcuni che avere da pensare. La prevalente tendenza all'autusità mentale si riscontra nell'incredibile credulità umana. Prendiamo, per esempio, il nostro atteggiamento nei confronti della pubblicità. Noi siamo portati con la massima facilità ad acquistare un prodotto perché una pubblicità alla televisione o alla radio lo proclama migliore di ogni altro. Gli agenti di pubblicità sanno bene che la maggior parte della gente è di mente ottusa e sfruttano questa suscettività con abili ed efficaci gli slogan. Questa ingiustificata credulità si vede anche nella tendenza di molti lettori ad accettare la parola stampata come verità definitiva. Pochi si rendono conto che anche le nostre autentiche fonti di informazione la stampa, la tribuna e in molti casi il pulpito non ci forniscono la verità oggettiva e imparziale. Pochi hanno l'acutezza di mente per giudicare criticamente e discernere il vero dal falso il fatto dall'invenzione. Le nostre menti vengono costantemente invase da legioni di mezzo verità di pregiudizi, di falsi fatti. Una delle cose di cui l'umanità ha più bisogno è di essere sollevata al di sopra del pantano della falsa propaganda. Individui dalla mente pusillanime sono inclini ad abbracciare ogni specie di superstizione. La loro mente è continuamente invasa da timori irrazionali che vanno dalla paura del venerdì 13 a quella di un gatto nero che attraversa la strada. Mentre salivo in ascensore in un grande albergo di New York City notai per la prima volta notai per la prima volta che non c'era il tredicesimo piano. Al piano dodicesimo seguiva il quattordicesimo. Alla mia domanda sul motivo di tale omissione l'addetto all'ascensore disse questo sistema è adottato dalla maggior parte dei grandi alberghi perché molta gente ha paura di stare al tredicesimo piano. E poi aggiunse la vera stoltezza di questa paura è che il quattordicesimo piano è in realtà il tredicesimo. Timori di questo genere tormentano giorno e notte la gente dalla mente pusillanime. L'uomo dalla mente pusillanime teme sempre i cambiamenti trova sicurezza solo nello status quo ed ha un timore quasi morboso del nuovo. Per lui nulla è più penoso di una nuova idea. Si racconta che un anziano segregazionista del sud abbia detto ormai sono arrivato a riconoscere che la fine della segregazione è inevitabile ma prego Dio che essa non abbia luogo fin dopo la mia morte. La persona di mente angusta ha sempre bisogno di arrestare l'attimo e di mantenere la vita sotto l'opprimento gioco della monotonia. Spesso la pusillanimità invade la religione. Per questo la religione qualche volta ha respinto con passione dogmatica una nuova verità. Per mezzo di editti e di bolle di inquisizioni e scomuniche la Chiesa ha cercato di ritardare la verità e di innalzare un impenetrabile muro di pietra sul cammino dei ricercatori della verità. La critica storico-filologica della Bibbia è considerata blasfema dagli spiriti angusti e spesso si considera la ragione come l'esercizio di una facoltà corrotta. La gente di mente fiacca ha costretto le beatitudini in modo da leggervi beati i puri nell'ignoranza perché essi vedranno Dio. Ciò ha portato anche a una diffusa credenza che vi sia un conflitto tra scienza e religione ma questo non è vero. Ci può essere un conflitto tra ottugi seguaci della religione e acuti scienziati ma non tra scienza e religione. I loro mondi rispettivi sono differenti e i loro metodi sono dissimili. La scienza investiga la religione interpreta la scienza dà all'uomo la conoscenza che è potere la religione gli dà la saggezza che è controllo la scienza ha a che fare prevalentemente con i fatti la religione soprattutto con i valori e se non sono rivali sono complementari la scienza impedisce alla religione di affondare nella palude di un paralizzante irrazionalismo e oscurantismo la religione evita alla scienza di cadere nel pantano di un obsoleto materialismo e del nichilismo morale non abbiamo bisogno di guardare lontano per scoprire i pericoli della pusillanimità i dittatori facendone tesoro hanno portato gli uomini ad atti di barbarie e di terrore che sarebbero impensabili in una società civile Adolf Hitler si rendeva conto che l'autocità mentale era così prevalente fra i suoi seguaci da fargli dire io uso l'emozione per i più e riservo la ragione per pochi in Mein Kampf egli afferma per mezzo di accorte bugie incessantemente ripetute è possibile far credere alla gente che il cielo è l'inferno e l'inferno è il cielo più grossa è la bugia più prontamente sarà creduta l'ottusità della mente è una delle cause fondamentali dei pregiudizi di razza la persona di mente acuta esamina sempre i fatti prima di giungere alle conclusioni in breve giudica dopo la persona di mente ottusa giunge ad una conclusione prima ancora di aver esaminato il primo fatto in breve pregiudica ed è vittima dei pregiudizi il pregiudizio raziale è basato su timori incomprensioni e sospetti privi di fondamento c'è chi è abbastanza ottuso di mente da credere nella superiorità della razza bianca e nell'inferiorità della razza negra nonostante le acute indagini di antropologi che rivelano la falsità di tale nozione vi sono uomini di mente angusta che sostengono che la segregazione raziale dovrebbe essere perpetuata perché i negri sono indietro nei titoli accademici nell'igiene e nel livello morale non sono abbastanza acuti da rendersi conto che i livelli inferiori sono invece il risultato della segregazione e della discriminazione non riconoscono che è razionalmente insano e sociologicamente insostenibile usare i tragici effetti della segregazione come argomento per la sua continuazione troppi politici nel sud riconoscono questa malattia dell'ottusità mentale che assorbe la massa dei loro elettori con zelo sospetto essi fanno infiammanti dichiarazioni e propagano distorsioni e mezza verità che provocano timori anormali e morbose antipatie nelle menti di bianchi non evoluti e non privilegiati lasciandoli così confusi che essi vengono spinti ad atti di stoltezza e di violenza che nessuna persona normale commette vi sono poche speranze per noi finché non diventeremo abbastanza acuti da liberarci dalle pastoie dei pregiudizi mezze verità e totale ignoranza la struttura del mondo attuale non ci consente il lusso dell'angustia mentale una nazione o una civiltà che continua a produrre uomini di mente ottusa guadagna a lunga scadenza la propria morte spirituale noi non dobbiamo limitarci a coltivare la mente acuta il vangelo esige anche un cuore tenero l'acutezza di mente senza tenerezza di cuore è fredda è distaccata e rende la vita un perpetuo inverno privo del tepore della primavera e del gentile calore dell'estate cosa può essere più tragico che vedere una persona che si è elevata alle disciplinate altezze dell'acutezza di mente ma è sprofondata al tempo stesso nei geli di abissi della durezza di cuore la persona dal cuore duro non ama mai veramente è tutta presa in un crasso utilitarismo che valuta gli altri soprattutto in base alla loro utilità non sperimenta mai la bellezza dell'amicizia perché è troppo fredda per sentire affetto per un altro è troppo egocentrica per condividere la gioia e il dolore altrui è un'isola solitaria che nessuna effusione d'amore congiunge al continente dell'umanità una persona dura di cuore manca della capacità di una genuina compassione non si lascia commuovere dalle pene e dalle afflizioni dei suoi fratelli passa ogni giorno accanto a uomini sventurati ma non li vede mai realmente può anche dare ingente denaro per la carità ma non dà niente del proprio spirito l'individuo duro di cuore non vede mai le persone come persone ma piuttosto come meri oggetti o come denti impersonali in una ruota in perenne movimento nell'immensa ruota dell'industria egli vede gli uomini come mani nella massiccia ruota della vita di una grande città vede gli uomini come dita di una moltitudine nella ruota mortale della vita di guerra vede gli uomini come numeri in un reggimento egli insomma spersonalizza la vita Gesù ha illustrato spesso le caratteristiche dell'uomo duro di cuore il ricco stolto fu condannato non perché aveva un cuore tenero la vita per lui era uno specchio nel quale egli vedeva solo se stesso e non una finestra attraverso la quale vedeva gli altri esseri il ricco andò all'inferno non perché era ricco ma perché non era abbastanza tenero di cuore da vedere lazaro e perché non fece nessun tentativo per superare l'abisso tra sé e il proprio fratello Gesù ci ammonisce che la vita buona congiunge la prudenza del serpente e la semplicità della colomba avere le qualità del serpente senza quelle della colomba significa essere freddi meschini ed egoisti avere le qualità della colomba senza quelle del serpente significa essere sentimentali anemici e inconsistenti noi dobbiamo riunire antitesi fortemente marcate noi in quanto negri dobbiamo congiungere prudenza e semplicità se vogliamo avanzare costruttivamente verso la meta della libertà e della giustizia individui di mente pusillanime fra noi credono che la sola maniera per trattare con l'oppressione sia quella di adattarvisi essi accettano la segregazione e vi si rassegnano preferiscono rimanere oppressi quando Mosè conduceva i figli di Israele dalla schiavitù d'Egitto alla libertà della terra promessa scoprì che gli schiavi non sempre accolgono volentieri i loro liberatori preferirebbero sopportare il male che hanno come ha fatto notare Shakespeare piuttosto che cadere in altri che ignorano preferiscono le piaghe d'Egitto alle prove dell'emancipazione ma questa non è la soluzione la quiescenza pusillanime è codardia amici miei noi non possiamo guadagnare il rispetto dei bianchi del sud o altrove se preferiamo rinunziare al futuro dei nostri figli per la nostra personale sicurezza e comodità più ancora dobbiamo convincerci che accettare passivamente un sistema ingiusto significa cooperare con quel sistema e divenire così complici del male che è in esso e vi sono fra noi individui duri di cuore e amari che vorrebbero combattere gli oppositori con la violenza fisica e con l'odio corrodente la violenza apporta solo vittorie temporanee creando molti più problemi di quanti ne risolve essa non porta mai a una pace permanente io sono convinto che se noi cediamo alla tentazione di usare la violenza nella nostra lotta per la libertà le generazioni future dovranno sopportare una lunga e desolata notte di amarezza e il nostro precipuo lascito ad esse sarà un interminabile regno del caos una voce eccheggiando attraverso i corridoi del tempo dice ad ogni intemperante pietro riponi la tua spada la storia è tutta risonante della rovina delle nazioni che non hanno seguito il comandamento di cristo una terza via si apre nella nostra ricerca della libertà cioè la resistenza non violenta che unisce l'acutezza di mente e la tenerezza di cuore ed evita la compiacente ignavia degli ottusi di mente e l'amara violenza dei duri di cuore io ritengo che questo metodo debba guidare la nostra azione nell'attuale crisi nelle relazioni razziali per mezzo della resistenza non violenta noi potremo opporci al sistema ingiusto e al tempo stesso amare coloro che applicano tale resistenza noi dobbiamo lavorare con passione incessantemente per raggiungere una statura piena come cittadini ma non si è mai detto amici miei che per ottenerla noi usiamo i metodi inferiori della falsità malizia odio e violenza non potrei concludere senza applicare il significato del testo alla natura di dio la grandezza del nostro dio sta nel fatto che egli ha insieme acuto di mente e tenero di cuore alle qualità dell'austerità e insieme della mansuetudine la bibbia sempre chiara nell'insistere su entrambi gli attributi di dio rappresenta la sua acutezza di mente nella giustizia e nell'ira e la sua tenerezza di cuore nell'amore e nella grazia dio ha due braccia distese uno abbastanza forte da circondarci con la giustizia l'altro abbastanza soave da abbracciarci con la grazia da una parte dio è un dio di giustizia che punisce israele per le sue azioni malvagie dall'altra egli è un padre indulgente il cui cuore si ricolma di gioia indicibile quando il figlio al prodigo ritorna a casa io sono riconoscente per il fatto che noi adoriamo un dio che ha insieme acuto di mente e tenero di cuore se dio fosse soltanto prudente egli sarebbe un freddo spassionato despota che contempla tutto da un lontano cielo come lo immagina tennison sarebbe il motore immobile di aristotele che conosce se stesso ma non ama alcuno ma se dio fosse soltanto tenero di cuore sarebbe troppo semplice e sentimentale per poter agire quando le cose vanno male e incapace di controllare la sua creazione sarebbe simile all'amabile dio di wells che desidera vivamente creare un mondo buono ma si trova impotente di fronte alle insorgenti potenze del male dio non ha né il cuore duro né la mente fiacca è abbastanza robusto di mente da trascendere il mondo e abbastanza tenero di cuore da viverci dentro egli non ci lascia soli nelle nostre agonie e nelle nostre battaglie ci cerca nelle tenebre e soffre con noi nella nostra tragica prodigalità a volte noi abbiamo bisogno di sapere che il signore è un dio di giustizia quando i giganti dormienti dell'ingiustizia si levano sulla terra abbiamo bisogno di sapere che vi è un dio di potenza che può falciarli come l'erba e come l'erba verde lasciarli appassire quando i nostri più instancabili sforzi non riescono ad arrestare l'insorgente attacco dell'oppressione abbiamo bisogno di sapere che in questo universo vi è un dio la cui invincibile forza è un'adeguata antitesi della vile debolezza dell'uomo ma si danno casi in cui abbiamo bisogno di sapere che il nostro è un dio di amore e di misericordia quando siamo sbattuti dai geli di venti dell'ovversità e percossi dalle furiose tempeste della delusione e quando nella nostra follia e nel nostro peccato ci sviamo in qualche lontana terra di perdizione e siamo frustrati a causa di uno strano sentimento di nostalgia allora abbiamo bisogno di sapere che vi è qualcuno che ci ama che ha cura di noi che ci comprende e ci darà un'altra possibilità quando i giorni si fanno bui e le notti tetre noi possiamo essere riconoscenti perché il nostro dio riunisce nella sua natura una sintesi creativa di amore e di giustizia che ci condurrà attraverso l'oscura valle della vita fino ai luminosi sentieri della speranza e dell'adempimento e dell'adempimento e dell'adempimento